Ciao amici, benvenuti sul mio canale. Oggi condividerò un nuovo video su Ken Yaman e Demetho Sdemir. Prima di passare al nostro video, non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace al mio video e supportarci condividendo il mio video. Grazie in anticipo per il vostro sostegno. Noto per la sua posizione carismatica sullo schermo e la sua chimica con Demetho Sdemir per la preghiera di Isha, Ken Yaman ha fatto un passo indietro nel tempo rivisitando il luogo in cui è iniziato il loro straordinario viaggio insieme. Ken Yaman, che viaggia indietro nel tempo, cerca di soddisfare il suo desiderio visitando i luoghi in cui sono andati con lui dopo la fine della sua relazione con Demetho Sdemir. Il luogo avvolto dalla nostalgia occupa un posto speciale nel cuore e simboleggia la nascita di un legame che affascina i fan di tutto il mondo. La visita è stata una testimonianza del primo incontro di Ken Yaman con Demetho Sdemir, che ha plasmato il suo cammino camminando sullo stesso terreno. Mentre ripercorreva i suoi passi, mentre riviveva la magia del loro primo incontro, le emozioni erano evidenti. Splendide foto della relazione tra Demetho Sdemir e Ken Yaman sul mio canale privato. Arrivederci, rimanete sani, felici e sereni.